Amici e amiche di Sportme, benvenuti all'ottava giornata del campionato Under-19 provinciale. Si affrontano Taormina e Gescal. Padroni di casa che si presentano con Giuffrida, Caltabiano, Peditto, Tonzusu, Loree, Vitale, Viscuso, Carta, Arnaud, Briganti e Auliera. A disposizione di Mister Ardizzone, Zingales, D'Angelo, Ciliberti, Centorrino e Rustica. Risponde il Gescal con Frisone, Farina, Federico, Vasi, Cuscinotta, Milicia, Zappalà, Mangano, Nicoleni, Ventra, Di Stefano. A disposizione di Giordano, Perticale, Sorbara, Galletta e Pagliaro. Dirige l'incontro il signor Cristiano Argento della sezione di Messina. Rimessa laterale per il Taormina. Battuta da Caltabiano che riceve adesso da un compagno. Va col traversone in mezzo. C'è una deviazione, poi prova ad arrivarci Carta che si gira in aria. Ancora Carta, cerco un varco, poi va da Auliera. Col mancino a Auliera. Si distende Frisone. Taormina ancora nella metà campo avversaria. Con questo pallone girato a destra nella zona di Caltabiano che controlla. Accelera il numero due, pressato da parte di Zappalà. Ancora Caltabiano col cross, c'è una deviazione di Federico. Poi arriva il tocco di Vasi che favorisce Viscuso col tiro. C'è il palo del Taormina. Ancora Caltabiano, un numero su un avversario. Poi fa partire il contropiede il numero due, innescando in avanti Auliera. Auliera davanti Frisone, Auliera con lo scavetto. Pallone che finisce alto sopra la traversa. Punizione per il Gesca, la fidata a Vasi che va sul secondo palo. Tocco morbido, colpo di testa. Azione che però sfuma per il Gescal. Ci aveva provato Ventra. Rimessa laterale per il Taormina. Riceve Viscuso, pressato da due avversari. Viscuso va in profondità, c'è il recupero di Vasi. Poi fa lo stesso Briganti che fa partire il contropiede. Corre sulla sinistra Arnò, pressato da un avversario. Arnò lo supera di testa. Arnò col destro! Porta avanti il Taormina. Un gol di forza del numero nove. Che sblocca così la partita col Gescal. E adesso va ad esultare con la panchina. Rivediamo il controllo di testa di Arnò. E poi la conclusione in aria che ha battuto Frisone. Per l'1-0 del Taormina. Punizione dal lato corto di sinistra per il Gescal. C'è una deviazione. Taormina che si salva in corner. Altro calcio piazzato per il Gescal. Sempre dalla sinistra. Pallone nel centro dell'area di rigore. E c'è il pareggio firmato da Di Stefano. Trova subito il gol il Gescal parziale. Che ritorna in parità. Rivediamo la punizione battuta in aria di rigore. Poi il tocco di testa decisivo di Di Stefano. Punizione per il Taormina. Sul punto di battuta Briganti e Viscuso. Vediamo chi andrà fra i due. Si allontana il numero sette. Va Briganti col mancino. Respinge Frisone. Ancora Viscuso col tocco di petto. Viene anticipato. E poi viene superato dall'uscita alta di Frisone. Taormina ancora in possesso. Briganti riceve. Sterzata del numero 10. Poi c'è il break del Taormina. Riceve Auliera. A tu per tu con Frisone il numero 11. C'è l'uscita di Frisone. E poi arriva Arnò che a porta vuota. Non riesce a segnare. Occasione colossale per il Taormina. Punizione per il Taormina. Che viene sfruttata adesso. C'è una deviazione. Poi un'altra deviazione del Gescal. Recupera quindi Briganti col mancino. Rimette in mezzo il pallone. Aggancia Auliera che poi va col tiro. Un'altra occasione importante. Sprecata dal Taormina. Insiste la formazione di Ardizione. Pallone interessante per Caltabiano. Caltabiano col traversone in area. Stacca Arnò. E gli dice di no Frisone. Parata importantissima del portiere del Gescal. Si va al riposo sul parziale di 1 a 1. Corre a destra Zappalà. Supera molto bene Peditto. Ci prova ancora il numero 7. Riesce a liberare il Taormina. Ma il Gescal recupera con Di Stefano. che è caricato al limite. Pallone fuori. Viscuso vince un duello sulla destra con Di Stefano. Ancora Viscuso a puntare Farina in questo momento. Pallone centrale per Auliera. Che svirgola. Poi Arnò serve. Briganti col mancino. Ancora una volta. Attento Frisone. Perde un brutto possesso il Gescal. Recupera Arnò. Che va da Briganti. In profondità. Il suggerimento per Auliera. Qui c'è un retropassaggio. Che viene giustamente notato da Argento. Vediamo la decisione del direttore di gara. Punizione a due nell'area di rigore del Gescal per il Taormina. Vediamo come sfrutterà questo calcio piazzato. Parte adesso Caltabiano. Ribattuto. Ancora Caltabiano. Una serie di rimpalli. E poi riparte il Gescal. Sostituzione per Ardizione. Che manda in campo Rustica. Al posto di Pedito. Calcio d'angolo per il Gescal. Che viene sfruttato in questo momento. Pallone sul primo pallone. Non ci arriva nessuno. Ci arriva invece Nicoleni. Chiedono un tocco di mano ai giocatori del Gescal. Ma lascia correre Argento. Avanza Vitale. Fermato da Cucinotta. Che può far ripartire il contropiede del Gescal. Accelera il numero 5. Ha spazio per andare. La serve in profondità. Zappalà. Seguito da un avversario. Zappalà col tocco. Pallone che finisce di poco fuori. Occasionissima per il Gescal. Punizione per il Gescal. Che parte in questo momento. C'era arrivato Giuffrita. Ma il pallone finisce di poco fuori. Possesso per il Taormina. Nella propria metà campo. Pallone giocato sulla destra. Ma c'è un giocatore del Gescal a terra. Lascia comunque correre Argento. Filtrante interessante per Auliera. Che scatta sulla linea del fuorigioco. Ancora Auliera col destro. C'è il tocco di Frisone. Ma torna in vantaggio il Taormina. Protesta l'intero Gescal. Ma la formazione di Ardizzone è nuovamente avanti. Rivediamo l'accelerazione di Auliera. E poi il tocco col destro. Che ha battuto Frisone. Per il 2-1 del Taormina. Adesso si è creata una mischia. C'è anche Frisone a terra. Vediamo la decisione di Argento. Che strae dei cartellini. In mezzo ai giocatori. Altro cambio per Ardizzone. Che inserisce Zingales al posto di Auliera. Punizione dal limite per il Gescal. Sul punto di battuta a Ventra. Ventra ci prova col sinistro. A fil di palo. Gescal vicino al gol del 2-2. Va a vuoto Zappalà. Prova a recuperare Loree. Che fa ripartire l'azione del Taormina. Ancora nella metà campo del Gescal. Pallone gestito da Arnò. Arnò punto un avversario. Ancora Arnò. Cerca di temporeggiare. C'è sulla sinistra Briganti. Marnò preferisce andare da solo col destro. E vola Frisone. Mantiene il parziale sul 2-1. C'è un nuovo rilancio per il Taormina. Ma poi Argento dice che può bastare così. Finisce 2-1 per la formazione di Ardizzone. Che trova un'altra vittoria nel campionato Under-19 provinciale.